Tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video grazie come sempre oggi vi voglio far vedere dalla versione smartphone di my mind le novità introdotte su questo software aprirò insieme a voi una partita sconosciuta perché poi vi dirò perché ci sarà un motivo ben preciso allora apro questa del cipro che è la prima che mi viene ok allora a parte le schermate che ormai conoscete a memoria dove ci sono le vinte le perse le pareggiate gli over e quant'altro i minutaggi primo tempo secondo tempo quant'altro corner tiri in porta tiri fuori tutte queste cose che finora avete visto e stravisto abbiamo aggiunto il mercato over 05 come vedete sia totale che primo tempo e secondo tempo e la novità che secondo me è molto carina per gli amanti del betting però perché non è tanto sul trading perché purtroppo non è possibile ancora tradare questo mercato ma la novità molto molto carina è questa qui ok io ho scelto non a caso una partita sconosciuta perché se vi avessi chiesto quali sono i marcatori più probabili tra si cita non so neanche pronunciarli qua acas e otellos qua che sembrano due nomi greci campionato del cipro chi sono chi so chi è il capocannoniere chi è il miglior assessment ok c'è my mind che vi aiuta my mind vi da le probabilità dei marcatori e di chi può fare assist in casa e fuori casa e come vedete qui nel menu in verde i marcatori assist in rosso i rigori quindi i rigori qua chi è il rigorista della squadra ospite questo duris ok vedete questo uno in rosso probabilità di disegnare sangare probabilità di segnare della squadra di casa cabrera 4 gol ovviamente questa partita è over 2 mezzo questa questa la metto prima così voglio vedere poi come finisce over 2 mezzo 5 minuti è il pronostico quindi siccome questa partita è over siccome e vediamo anche come over lo guardo insieme come mai addirittura over 2 mezzo all 80 per cento quindi si aspettano almeno tre gol allora facciamo un giochino insieme a voi prendo cabrera come marcatore di casa anzi voglio proprio analizzarla bene quindi qua indica tre vittorie quindi probabilmente è la squadra di casa quindi vabbè prendo il marcatore di casa voglio stare un po stretto cabrera mi prendo e casa assist non ce n'è quindi non indica niente quindi mi prendo il marcatore cabrera mi prendo come giocata di trading over 2 mezzo dopo 5 minuti lo posto prima che inizia e voglio vedere come finisce queste sono le novità di my mind e come sfruttarle ciao